buongiorno a tutti benvenuti a questa rassegna stampa di oggi martedì 27 gennaio 2015 siamo in diretta come sempre alle 7.30 del mattino con i giornali giornali che tra poco leggeremo con il nostro touchscreen prima il santo del giorno oggi la chiesa cattolica ricorda sant'angela merici vergine la sant'angela nata nel 1474 morì nel 1540 fondò nel 1535 la congregazione delle suole suole orsoline dopo aver avuto l'intuizione quasi uno scandalo ai tempi di aprire scuole per le ragazze maturò la sua vocazione in occasione di un viaggio in terra santa il sole sorto alle 7.30 tramonterà alle 17.12 il tempo il tempo per oggi oggi avremo cielo parzialmente nuvoloso con aumento della nuvolosità dal tardo pomeriggio sempre dal tardo pomeriggio deboli precipitazioni deboli rovesci sparsi nevosi al di sopra di 400 500 metri temperature minime in diminuzione le massime stazionari oppure lieve aumento eventi di brezza tesa da nord il mare sarà mosso per mercoledì 28 gennaio cielo nuvoloso al mattino con ampie schiarite nel pomeriggio deboli rovesci precipitazioni sparse maggiormente diffuse sui settori interni e meridionali della regione il limite delle nevicate sarà attorno ai 500 600 metri le temperature sono minime quelle minime in aumento le massime resteranno stazionarie i venti inizialmente moderati nord orientali con raffiche fino a tesi lungo la costa il mare sarà mosso per giovedì 29 gennaio avremo cielo da poco a parzialmente nuvoloso con maggiori addensamenti nelle zone interne le temperature saranno in aumento i venti di brezza tesa sud occidentali con raffiche di vento a fresco nelle zone interne il mare sarà poco mosso per quanto riguarda i prossimi giorni avremo tempo instabile per il fine settimana per la presenza di un vasto nucleo depressionario sull'europa centro settentrionale la tragedia del piccolo francesco il bambino morto a soli dieci anni di meningite fulminante oggi l'autopsia sul piccolo federico ma è meningite l'ansur ha spiegato l'intera profilassi trattate in tutto tra ragazzini di minore età e adulti 112 persone è stata attivata anche una fase di sorveglianza sanitaria che si protrarrà per dieci giorni le passioni raccontate in questo articolo del Carlino sulla pagina di Fano le passioni di questo bambino il nuoto il calcio come tutti ovviamente era appassionato anche di calcio ma anche di canto della sua Juventus questo bambino nato il 12 luglio del 2004 portato via da un destino atroce domenica mattina da appena dieci anni e mezzo le immagini vedete qua con il papà a Roma in piazza San Pietro e qui nella piscina sopra invece un momento della conferenza stampa tenuta dai medici dell'Asur ieri l'abbiamo trasmessa in diretta proprio per dare a tutti la possibilità e nelle prime ore da quando si era diffusa questa voce di questa terribile meningite di avere subito un po' il quadro della situazione lo hanno fatto ieri appunto questi quattro dirigenti del settore sanitario insomma ieri mattina spiegando tutta quella che è stata in particolare la profilassi messa in campo in particolare negli ambienti e con le persone che hanno vissuto con il piccolo deceduto la gratitudine straziante del padre di Francesco per i medici che ha detto grazie lo stesso non ce l'hanno fatta a salvare il mio franci ma sono stati tutti straordinari e voglio ringraziarli di cuore alla voce rotta dalla sofferenza Gianluca Maraschi il babbo del povero Francesco le sue parole sono spezzate da singhiozze e da silenzi che esprimono in maniera lancinante la tragedia interiore di questo uomo andiamo adesso avanti sulle altre pagine del resto del Carlino andiamo avanti parliamo di politica le regionali, i regionali candidati affilano le armi incerti Giancarlo Danna, Paolini e Cucuzza tre nomi finora senza ufficialità in casa del PD pronti Minardi e la Fulvi ma i quarantenni potrebbero stupire ancora altra denuncia per i reati di caccia siamo sulla pagina di Fossombrone Cagliurbania un sessantenne sorpreso con un capriolo e armi in casa non registrate una vasta attività di bracconaggio parallela rispetto ai numeri ufficiali e con molti interessi economici a Fossombrone comitati pro ospedali l'entroterra si coalizza per la prima volta una riunione mette in fila Fossombrone Cagli e Pergola il piccolo Balù un cane vedete in braccio al suo padroncino il piccolo Balù avvelenato in centro a Pesaro la denuncia tra via Abati e via Giordano Bruno polvere ed esche velenose le analisi del sangue di questo effettuate sulla povera bestiola confermano che è stato avvelenato da topicidi sparsi per strada da incivili la vittima un cucciolo di Labrador di pochi mesi che in questa immagine vedete è in braccio al suo padroncino il grande dolore di Federico che appunto lo ha perso la strage delle tartarughe non ha fine altre tre spiaggiate continue segnalazioni per la Capitineria dubbi sulle cause trovati anche un'istrice e uova di razza ancora dal resto del carino la pagina di Fano una ventinovenne dell'est cade da 5 metri tentato suicidio oppure un incidente accertamenti della polizia si tratta di una ragazza di 29 anni che è caduta l'altra sera alle 19 dal secondo piano della sua casa di Fano in via Zuccari sul lungomare la giovane si è fratturata il bacino 5 costole però non si sa se si è trattato di suicidio oppure di incidente perché la ragazza era secondo quanto scrive il giornale questa mattina era completamente ubriaca e adesso invece c'è lo scontro sfiorato tra la Lega Nord e i Grizzly in piazza 20 Settembre a Fano Paolini della Lega fate manifestare anche noi carroccio contro gli antagonisti scoppia un caso alternativa libertaria dice Charlie Hebdo è strumentale Lega non accetta chi ha origini lontane diverse dalle loro e quindi sostanzialmente vengono accusati di razzismo apriamo il messaggero ex AMGA cantiere riaperto a Pesaro sono stati installati i container ma la bonifica vera e propria inizierà tra qualche settimana il sollevamento delle membrane dell'area inquinata verrà preceduto da uno studio sui gas a centro pagina questa modella pesarese in Lizza Margot tra i famosi dell'isola c'è un po' di Pesaro all'isola dei famosi potrebbe la modella Margot Ovani spacca mani libere sul voto al nuovo capo dello Stato intanto Cerisciole sceglie nel suo staff anche l'ex sindaco di Ancona le pagine interne del messaggero una giornata della memoria contro le atrocità di Auschwitz oggi celebrazioni allo sperimentale di Pesaro con le scuole a Fano in municipio targa contro l'orrore l'epigrafe dovrà ricordare il soggiorno dei profughi ebrei scampati ai lager quindi tutta una serie di manifestazioni per la giornata della memoria di oggi e ancora da Pantano Pesaro fallisce il colpo i ladri in fuga si lanciano dal secondo piano e poi sempre da Pesaro frati e missionari serviranno alla mensa dei poveri domenica che solitamente resta chiusa resterà invece aperta per preparare pasti caldi a 100 persone in difficoltà la ferrovia Fano Urbino pressing sulla regione Marche in discussione la mozione dei Verdi contro la dismissione e poi la pagina di Fano anche qui in apertura in evidenza il caso del piccolo Francesco colpito dalla meningite 10 giorni sotto sorveglianza per tutte le persone che sono state vicine a lui quindi abbiamo detto più di un centinaio di persone oggi l'autopsia del piccolo di Orciano le staffette dei carabinieri ci hanno consentito di essere operativi in un'ora e superare l'emergenza queste sono parole di ringraziamento nei confronti anche dell'arma dei carabinieri che si è resa disponibile per andare a Iesi e nei vari ospedali dell'entroterra per recuperare i farmaci subito dopo l'emergenza subito dopo che è scattata l'emergenza i profughi invece i profughi racconteranno il loro dramma nelle scuole intanto il comune di Fano cerca di impiegare gli ospiti che si trovano all'hotel Plaza del Lido anche di impiegarli anche come volontari tenta di truffare un concessionario l'uomo si spaccia per un altro ma viene scoperto e denunciato poi ancora sotto due tartarughe trovate spiaggiate tra Pesaro e Fano e Giro d'Italia formativo con l'atleta paralimpico Andrea De Vincenzi è a Fano da oggi fino a domani per una tappa del Giro d'Italia formativo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa grazie per averci seguito vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento questa sera alle 20.30 con Occhio alla Notizia mentre c'è il nostro sito internet con tutti i social network collegati se non l'avete ancora fatto potete farlo potete schiacciare cliccare mi piace sulle pagine di Occhio alla Notizia oppure di Fano TV per essere sempre aggiornati in tempo reale su quello che accade in città e nel comprensorio quindi vi aspettiamo anche sul nostro sito internet grazie per averci seguito a voi tutti l'augurio di una serena giornata grazie a tutti